Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il veterinario, parliamo dello scoiattolo giapponese. Nonostante appartenga alla principale famiglia di roditori abitanti in Nord America, è un animale tipicamente ed è l'unico che abita proprio il Giappone e la Cina, come in quanto scoiattolo. Nonostante è un buon arrampicatore, quindi sicuramente riesce a vivere sugli alberi, lui preferisce stare a terra dove si nasconde tra le radici degli alberi e i cespugli. Qui scava la propria tana e accumula riserve di cibo. È un immanetto che può stare benissimo allevato in una voliera in giardino oppure anche in casa. Calcolate che abbia abituato molto bene al freddo ma soprattutto deve avere a disposizione una cassetta impermeabile ben imbottita dove poter trascorrere il periodo di letargo almeno un po' al caldo. Questa sistemazione più naturale, che è quella della voliera in giardino, ha il piccolo svaltaggio di renderlo meno domestico, avere meno rapporti con l'uomo e però gli consente sicuramente di avere una vita molto più naturale. Ad eccezione delle carote, di cui è golosissimo, lo scoiattolo giapponese non gradisce molto le verdure ma consuma grandi quantità di frutta, ghiandi, semi di girasole e arachidi. In commercio troverete sicuramente delle ottime miscele bilanciate, vitaminizzate e a base di semi e frutta secca. Possiamo dare durante la bella stagione anche un po' di frutta secca, soprattutto delle mele, poco pane secco, qualche fiocco d'avena e di tanto in tanto anche dell'ottimo yogurt. Se volete potete somministrare anche delle camole della farina, anche calcolate che è molto carino vederlo quando mangia perché come gli altri scoiattoli ha l'abitudine di sedersi sulle zampe posteriori e utilizzare le zampine anteriori per mangiare. Vi do appuntamento a settimana prossima, arrivederci!